Calato nelle acque di campione l'entrobordo classe 350 kg di Liborio Guidotti che scatta sulla base misurata. La limitazione dello scafo, un Timossi a tre punti con motore Maserati 1.5 accresce l'importanza della prova. Media 149-380, battuto di tre chilometri il record mondiale di Maderna. Così i motonauti italiani offrono un alloro al ricordo di Verga, trasformano il lutto in una vittoria.